Ed eccoci insieme ad Andrea Vato a commentare quella che sarà la partita finale del campionato, ma anche le sue prospettive. Cosa succederà a Pistoia? Io credo e spero che l'Arezzo prenda questi ultimi tre punti e in quel momento, sono d'accordo con Dal Canto, potrebbero veramente fruttare il quinto posto in classifica con tutti i vantaggi che ne conseguiranno e che ben conosciamo. Perché anche tu pensi che Entella e Piacenza non lasceranno i punti all'avversario rispettivo? No, penso che la Carrarese potrebbe anche pareggiare la partita, insomma un risultato diverso dall'1x a Chiavari sarebbe, non dico una sorpresa, ma quasi. E quindi è per questo che l'Arezzo ha buone chance di arrivare al quinto posto. Sì, è un gioco a incastri, perché poi dipende anche da quel che fa il Piacenza a Siena, naturalmente, perché la stessa Entella, se dovesse vedere che il Piacenza vince largo, non so come... Comunque è difficile pensare che perda. No, comunque è anche difficile pensare che il Piacenza vada a Siena a vincere largo, insomma. Ma ecco, se non poi alla fine della partita, poi è chiaro che stiamo parlando del nulla, poi magari va tutto al contrario, la Carrarese vince facile a Chiavari e il Piacenza perde a Siena. O come abbiamo visto anche nell'ultima partita casalinga, l'Arezzo può incontrare delle difficoltà, Pistoglia magari inaspettate ora. Sì, anche se poi fuori casa paradossalmente credo che invece di difficoltà ne incontrerà un po' meno dal punto di vista tattico. Il Gozzano è venuto qua, no, molto chiuso, molto... Tutti dietro la palla. E ha creato un po' di apprezzione, non è stato il solito Arezzo, mentre Pistoglia potrebbe essere più semplice da questo punto di vista. Per quanto riguarda la formazione, come al solito, dal canto ha lasciato capire un po' poco, ma perché lui dice, ah beh, ce l'ho tutti a disposizione, in effetti, tranne Salifu, ormai sono quasi tutti a disposizione. Però non si è capito bene se rientreranno tutti e tre coloro che hanno saltato l'ultima partita, oppure no, e se confermerà gli altri. Secondo me rientrano tutti e tre. L'unico dubbio che ho, ma credo, insomma, è sulla tre quarti, ma credo che alla fine giocherà Serrotti, da come ha parlato anche riguardo la diffida che ha Serrotti, penso che sarà lui a cominciare, poi magari Belloni e Rolando si alterneranno a partita in corso. Sì, anche perché ha detto che non ha nessuna paura del fatto che Serrotti possa andare in squalifica, diciamo, per quello che riguarda i pre-off. Lui si sente molto fiducioso, dice che il gruppo è tutto carichissimo, prendiamo per buono. No, assolutamente, ma ne ha ben ragione. Mi stupirei se lui non lo fosse, ma se non lo fosse neanche l'ambiente. Cioè, la Rezza ha la possibilità di arrivare al quinto posto, è una squadra che non ha perso mai in casa, non ha perso mai due partite di fila, è la squadra che ha perso di meno in assoluto. Anche se a pari merito con altre formazioni, che sono con organici più larghi, con un valore generale anche più alto di quello dell'Arezzo, quindi assolutamente ottimismo, sì. Che poi lui parla di organici di pari livello, ma il nostro lo è abbastanza, tutto sommato. Non è che i giocatori fuori siano così tanto inferiori a quelli che giocano, in generale. Dell'Arezzo, dici? Beh, insomma, io dico che è un ricambio vero di Brunori, l'Arezzo non ce l'ha, per esempio. O se ce l'ha, ce l'ha il recupero attuale. Ho dimostrato che, insomma, anche un ricambio vero di Basit non c'è. I ricambi più numerosi e più affidabili sono in difesa, dove infatti d'accanto ha ruotato più che negli altri reparti. Sì, in effetti a centrocampo la scelta è ampia, ma magari il sostituto di Basit, come hai detto giustamente, non è facile da trovare e poi tocca spostare tutto il centrocampo, come è avvenuto nella settimana precedente, naturalmente. Comunque, veniamo per ultimo ai play-off e diciamo, noi i play-off intanto li giochiamo, li possiamo giocare con una certa serenità, non ci è richiesto di vincerli, allo stesso tempo li giochiamo perché ci piace la lotta per vincere. No, sono una grande opportunità, sono una grande vetrina, sono anche il giusto premio per una squadra che ha girato, non dico al massimo, ma quasi per tutta la stagione, che non ha mai avuto delle grandi flessioni, che, devo dire, non ha mai steccato veramente una partita, neanche quella di Carrara, e soprattutto è una possibilità per giocarsi quella chance che hanno tutte le squadre che partecipano ai play-off. Secondo te, va bene, nei primi due spareggi, ammettendo che l'Arezzo vinca, ce la giocheremo con partite secche e casalinghe, probabilmente, se poi arriviamo sesti, una casalinga o una... Sì, che poi non è detto neanche se arriviamo sesti, che se la quinta poi va fuori con la decima... Esatto, non si sa. Mentre dopo saranno andate a ritorno. Tu cosa preferiresti? Questa è la domanda da un milione di... Come spareggio, in generale. No, è chiaro, se guardi i numeri ottenuti finora, l'Arezzo in casa non ha mai perso, quindi la gara secca in casa, mi tocco cento volte, dovrebbe essere favorevole. Però è vero anche che in trasferta l'Arezzo ha sempre venduto cara la pelle. E anche piccoli errori, piccoli o grandi, in cui siamo in corsi, diciamo, con un'andata e ritorno si possono un po' meno... Sì, si possono bilanciare, dipende. Poi i play-off sono veramente delle partite appese a dei dettagli e lo sappiamo bene anche per quelle che sono state le esperienze passate. Purtroppo questa è una piazza che non ha una grande fortuna con i play-off. ne ha vinto uno solo più di vent'anni fa con Cosmi, quando poi l'Arezzo andò in C1, se no sono sempre andati male. Quindi statisticamente è l'ora di invertire la tendenza. Forza, Arezzo, la carica c'è. La carica c'è, grazie.